Finalmente, una nuovissima idea fresca e brillante, il primo talent sardo. 14 artisti alla ribalta per uno spettacolo unico nel suo genere. Centinaia di brani musicali, salti in banchi ed acrobati, vertiginosi breaker, folli pirati musicanti, emozionanti canzoni e interpreti. Scattanti ballerine, gag comiche e simpatiche scenette acrobatiche. Il primo, l'unico talent sardo!